In Italia ancora questa parità reale, questa valorizzazione del nostro genere non è avvenuta. Non sono d'accordo con chi dice che negli ultimi anni non ci siano stati progressi. Questa è una grande bugia perché se io penso a mia nonna nel 1946 votò per la prima volta e quindi dal 1946 a oggi molti passi avanti li abbiamo sicuramente fatti. Quindi lo sappiamo che nella realtà le donne italiane come le altre donne europee lavorano quando possono si realizzano, studiano e performano meglio anche negli studi. Ma non c'è una vera parità di diritti perché è come se essere donna ancora in un qualche modo nella società viene considerato come qualcosa di penalizzante se ci si vuole affermare pienamente. e non ne farei un fatto di appartenenza a un partito politico perché molti fanno rientrare, questo bisogna dirlo secondo me chiaramente, questo tipo di mentalità come appartenente a un gruppo politico, una destra poniamo, invece io credo che sia trasversale. Questo è anche il finale di una ricerca del Censys Donne Media in Europa che finiva proprio così, che della reale affermazione delle donne in Italia non se ne occupa nessuno e non interessa veramente. Quindi direi che è stato questo che mi ha colpito quando sono tornata dall'estero e quello che mi ha colpito come fatto è stato che tornando mi capitava di accendere un semplice gesto nella televisione e vedevo cose che all'estero non si vedono e quindi la mia reazione era di chiamare amici, parenti, dire ma c'è una cosa, c'è una donna sotto il tavolo. Mi pareva un fatto stranissimo, allarmante e la risposta stranamente era ma è la televisione. Come se fosse intrinseco alla televisione il fatto di mandare in onda immagini oggettivizzanti, mercificanti e umilianti. Ecco, credo che sia stato fatto di avere uno sguardo esterno, quindi di non avere subito quell'avvelenamento, una piccola dose tutti i giorni che mi ha fatto reagire. Io partengo da una generazione che per vent'anni ha avuto un'altra televisione. E non ha avuto una televisione così invasiva, ha una generazione che ha avuto per un po' di anni la mia infanzia un canale televisivo. Quindi per me secondo me in qualche onda è stato più facile accorgermi. Se consideriamo chi ha 30 anni oggi, è nato, chi è nato nell'80, è nato con Drive-In. Quindi dico Drive-In perché è stata la prima trasmissione a sdoganare un certo tipo di rappresentazione del femminile. E quindi per molte 30-35 anni, uomini e donne, è normale. Molte ragazze mi dicono, io sono nata, che c'era già Drive-In. Ricordiamo che striscia la notizia che il programma probabilmente più di successo della televisione italiana va in onda da 23 anni. Quindi per chi ha 30 anni oggi era piccolissima e vedeva striscia. Quindi le veline diventano anche figure, ci dicono le ragazzine amiche. Le veline sono carine, sono come delle bambole. 7-8 milioni di spettatori tutte le sere da 23 anni. Quindi 30 anni così fanno pensare che sia normale. Poi negli anni 90 accade un altro fatto che secondo me è determinante, di cui non parla nessuno e che è il servizio pubblico anziché pensare di offrire un'alternativa e quindi scegliere una strada per esempio come la BBC, che sceglie un altro tipo di programmazione rispetto alle reti private, sceglie di seguire le reti commerciali. E quindi dagli anni 90 noi abbiamo 5 reti su 6, escluderei Rai 3, che danno lo stesso tipo di rappresentazione mercificata del corpo femminile. Un altro fatto importante e grave che accade negli anni 90 è che non viene fatta la legge sul conflitto di interessi. E qui per dire le responsabilità di tutti, quindi non è una responsabilità diciamo solo del berlusconismo, una responsabilità anche della cosiddetta opposizione, che sceglie di non fare una legge che probabilmente avrebbe cambiato le sorti del paese. Ecco questo, quindi una televisione che permea la nostra vita e che è normale. oltre a questo c'è da ricordare che negli anni 70 il movimento femministo italiano è stato uno dei più importanti a livello mondiale, questo ci ha riconosciuto. Quindi donne, pensieri interessantissimi che vengono tradotti in tutte le lingue è una vera riubilazione, troppo breve. Troppo breve perché subito dopo, a cavallo tra fine anni 70 e prima anni 80, succede qualcosa. E quello che accade è che c'è l'avvento dell'economia neoliberista. Quella è una cosa su cui nessuno riflette mai è che il neoliberismo non l'abbiamo inventato noi, ma i paesi anglosassoni. Però in Italia trova un'affermazione maggiore. C'è l'epoca di Reagan, della Thatcher, quindi un liberismo forte, che propone lo sdoganamento di tutto per raggiungere il profitto, sono accettabili tutti i mezzi. Però se esaminiamo i paesi da cui deriva l'iberismo, in questi paesi i diritti costituzionali comunque tengono più dell'economia liberista. Cioè c'è come un tetto, il profitto prima di tutto, qualsiasi mezzo è accettabile, ma per esempio se guardiamo in Inghilterra non si possono usare nelle pubblicità immagini del corpo femminile nudo, se non quando il corpo femminile è direttamente collegato al prodotto che devo vendere. Quindi mostrerò una donna in due pezzi se devo vendere un costume da bagno, se no no. Quindi queste concause, io credo, 30 anni di televisione che hanno fatto pensare che fosse tutto normale, un'opposizione che non fa il lavoro da opposizione, un servizio RAI che segue le televisioni private e un paese che ha poco rispetto delle leggi. E quindi molto meno che per esempio nei paesi anglosassoni rispetta queste leggi che avrebbero fatto sì che per esempio noi abbiamo un bellissimo terzo articolo della Costituzione che ci sarebbe da protezione di tutto quello che invece va in onda. Da ultimo direi anche un paese cattolico dove sicuramente possiamo dire che per il cattolicesimo la reale emancipazione della donna non viene comunque, non viene proposta come un valore portante, ma anzi quasi un po' una sottomissione. Io non credo che ci sia reale possibilità di autodeterminarsi quando un mezzo così pervasivo come la televisione propone un quasi unico modello di donna. Io incontro moltissime ragazze giovani che mi dicono ho 20 anni, da quando ne ho 3 mi hanno messo davanti alla televisione e quello è stato il mio quasi unico strumento di informazione. Io vorrei che una società evoluta come dovrebbe essere la nostra utilizzasse specialmente il servizio pubblico per informare e formare. Dopodiché mi sentirei più tranquilla nel dire sì, sei responsabile di quello che fai. Io credo che dei ragazzi che vengano formati attraverso una televisione pubblica di questo tipo non abbiano avuto tutti gli strumenti per una reale autodeterminazione. senza nulla togliere al libero arbitrio. Però una responsabilità c'è, una cosa che diceva anche Karl Popper che sicuramente marxista non era, ma anzi, un filosofo neoliberista per eccellenza che però sosteneva che la televisione pubblica ha un dovere di democrazia, di informare attraverso la televisione pubblica, cosa che noi non facciamo. L'altra cosa è che io dico in modo anche molto diretto che non è interessante parlare di cento subret che fanno televisione. Noi, il mio sguardo si sposta sulle regole. Quindi anche quando andiamo ai dibattiti, spesso donne più che uomini insistono sul dire ma caspita stiamo facendo tutto questo dibattito per, per che cosa, per salvare l'onore della velina. No, direi che non assolutamente. Stiamo facendo tutto questo lavoro faticoso per chiedere delle regole o chiedere di annullarne delle altre. Faccio sempre nelle scuole degli esempi forti, no? E dico a scuola, se io per esempio adesso inizio a spogliarmi, di solito le pressi, dice caspita adesso lo farà, ma serve per far capire ai ragazzi che cosa succede. Inizio a farlo, no? E allora arriva, c'è un prof che dice no, non si può, no, in una scuola non si può. E io dico fa niente, lo farò. Quindi spingo sempre questo specie di scherzo, che scherzo non è, fino al punto in cui quando inizio veramente, mi sono tolta la giacca, mi sono tolto il golf, inizio a togliere la camicia, c'è sempre qualche genitore o qualcuno che dice no, guardi Zanardo, adesso chiamo i carabinieri. E dì che mi fermo, dico bene, per 30 anni non li avete chiamati, però se mi tolgo io la camicia li chiamate. E questo è il punto. A me non interessa fare un discorso sulle venine, mi interessa fare un discorso su regole che non vengono rispettate e allora mettiamo in discussione che io a scuola voglio stare mutande. Va bene magari, no? Cioè ho fatto di coerenza e arriviamo al punto in televisione, non c'è liberazione sessuale. C'è vendita, c'è mercato. L'Italia è uno dei più grossi mercati pubblicitari, il corpo della donna serve a vendere, quindi la liberazione sta da un'altra parte, parliamone, ma non è quello, no? Ecco, per questo io a volte dico sto dalla parte delle veline, perché il problema non sono quattro ragazzini in mutande, il problema è una televisione che mercifica il corpo per far vendere. Non confondiamola con la liberazione, ecco, chiamiamola in un altro modo. Io ho conservato e alcuni hanno conservato un atteggiamento comunque di militanza che non farei appartenere a un partito, ma c'è un bellissimo documentario di un documentarista belga che si chiama Hugues Lepage, che ha ambientato tutto in Toscana, un documentario poco conosciuto che dovremmo vedere tutti, che si chiama Il fare politica. È ambientato tutto in una casa del popolo di Mercatale. E a un certo punto lui, c'è un bellissimo primo piano con cui finisce il documentario, c'è un primo piano di questa donna che avrà la mia età, che è stata militante tutta la vita, ma in senso bello, militante della vita. E lui le chiede, ma Fabiana alla fine cosa vuol dire il fare politica, no? È una donna molto semplice. E lei, in questa inquadratura meravigliosa, alla fine finisce col dire prendersi cura della propria vita e la vita di quelli circostanzi e non accettare di farsi mettere i piedi sopra la testa e combattere sempre perché il mondo sia più giusto. E alla fine sono concetti molto semplici, ma è quello che dice Fabiana, no? Che io credo che se facessimo tutti così non sapremmo. C'è qualcosa di però che è accaduto obiettivamente, perché quello che trovo andando in giro è una sorta di rilassatezza, no? È una sorta di quello che vediamo sui quotidiani. Parliamo tutti di quello che non va. Perché se ci fosse un quotidiano che propone una pagina su azioni per cambiare quello che non va, non si dà nessun interesse a questo. Quindi io credo che la soluzione sia fare. Dopo la manifestazione del 13 febbraio, che è stata secondo me molto interessante, perché Trasversale ha mostrato che le donne sono tante, esistono, esistono a modo loro, però non sta accadendo nulla. E molti mi chiedono, e basta, la manifestazione no. La manifestazione serviva negli anni 70, quando c'erano dei partiti politici con le orecchie in ascolto. E allora tu manifestavi e poi eri anche abbastanza sereno. Il tuo dovere era manifestare e poi sapevi, potevi andare a casa e dedicarti alla tua vita, che c'erano dei partiti che ascoltavano il tuo dissenso e l'avrebbero tramutato in azioni politiche. Adesso facciamo una manifestazione. Non ha ascoltato nessuno. E quindi quella bellissima energia si è persa. E quindi io credo che se c'è una soluzione, una ricetta, non lo so, è fare. Cioè io dico il giorno dopo della manifestazione, facciamo, io non mi sono fermata, il giorno dopo della manifestazione sono stata a Chiavari in una scuola e ho ripreso il mio lavoro. Cioè micro azioni che cambiano il mondo. E per questo che dico a volte che la rete è un grande strumento, ma non può essere l'unico. La rete serve per informare, ma poi bisogna creare dei ponti sul territorio, non si scappa. Ecco, quello che senza rete noi non saremmo esistiti. Quello che vedo che però accade sul blog è che troppe persone, specialmente giovani, pensano che quello sia diventata l'azione. Scrivo sul blog il mio dissenso. E poi, per quello che mi interessa andare a indagare adesso in Toscana, perché in Toscana è avvenuto, ma io non ho capito perché andrò a indagare, una micro azione che secondo me cambia il mondo. Scrivo il mio dissenso sul blog, capisco che ci sono cose da fare e faccio questa azione. Questi vogliono capire cos'è che mi fa fare questo. E questa è la cosa da capire. Ci sono persone a cui non basta scrivere, leggere il giornale, anche quelle di opposizione, di lamentele, che parlano solo di lamentele, ma ci sono persone che decidono di alzarsi. Quest'azione, da che cosa è provocata? Cosa mi fa alzare il sedere dalla sedia? Se noi capiamo quello, abbiamo fatto tre quarti del lavoro. Bisogna capire cosa porta questa fatica. Perché si fa fatica, no? Si starebbe più comodi davanti al computer. Al caldo, fuori piove, un caffè. È molto comodo e il computer ci dà anche una scusa. Ho fatto il mio dovere. Ho scritto che non sono d'accordo. Invece c'è gente che in Toscana, per esempio, ci sono state dei gruppi di donne, neanche giovanissime, che mi hanno chiesto una copia del documentario che per tutta l'autunno e l'inverno, con la pioggia, l'hanno preso, l'hanno portato nelle scuole, hanno riaperto le case del popolo, senza avere nessuno che poi le recensisse, gli dicesse brave, gratis, facendosi loro i volantini a casa. Perché l'hanno fatto? E quindi è questo da andare a capire. C'è gente che lo fa ancora. Perché? Io ho una laurea in letterature straniere con una tesi sul teatro inglese contemporaneo, quindi parto da un'altra parte. Poi ho fatto un master in economia e già lì era difficile perché eravamo solo sei donne su 65 uomini e io l'unica laureata in materie umanistiche. Diciamo che dall'inizio io non ho mai fatto parte di un movimento femminista, mi sono sempre sentita femminista, però già da lì facevo le mie battaglie perché tenevo molto alla mia unicità che era di donna e umanista. Anche se ero molto discriminata per entrambe le cose, erano gli anni 80, quindi già una delle prime donne in queste strutture molto maschili e una laurea che nel pieno diffondersi del liberismo, quindi dove l'economia diventava la disciplina portante, era un po' una laurea. Diciamo che io sono sempre stata molto orgogliosa di entrambe le cose, avevo avuto ragione, quindi ci tenevo. E poi sono entrata in questa grande multinazionale inglese e sono stata la prima donna a entrare in questa multinazionale. con tutte le conseguenze che si immaginano. Da un certo punto di vista è stato meno difficile che in un'azienda italiana, obiettivamente. Io avevo un manager a cui rispondevo inglese e un direttore marketing danese che sono stati loro a volermi. Sono entrati in questa azienda e loro quando sono arrivati hanno detto come mai non ci sono donne ed erano allibiti, specialmente il danese. E quindi devo gratitudine ho conservato rapporti a distanza di anni a queste persone. Poi è stata molto dura, no? Ma di queste penalizzazioni l'ho capito poi negli anni. Al momento fai delle scelte inconsce. Fingi di essere uomo. Non c'è possibilità di essere. Non c'è un'altra possibilità. Cioè in un contesto dove ci sono 1500 maschi sei l'unica donna non ti accorgi neanche ma per sopravvivere diventi un po' uomo, no? Con anche risultati molto dolorosi. E di questa cosa si è parlato poco in Italia. Anche delle donne che hanno assunto potere in quegli anni e che hanno riempito le copertine dei magazine non si è raccontato tutto, no? Delle vite private devastate. Insomma ci sarà da fare una bella analisi. Ma sicuramente ho imparato un metodo. Poi ho lavorato per la comunità europea ho vissuto tanti anni all'estero. Successivamente ho messo insieme i pezzi dove con un grande recupero anche del femminile inteso in senso molto profondo a cui io tengo moltissimo. Quindi questo metodo io lo sto applicando anche ora e vedo che è molto utile, no? Un modo di approcciare in modo molto organizzato le cose. Devo dire che è faticosissimo questo bisogna dirlo. Tutto questo lavoro io lo sto facendo per le ragazze. Devo dire la verità perché trovo che sia indegno che ragazze che non hanno nulla di meno delle altre donne europee anzi abbiano comunque un contesto che è svilente. C'è una ricerca adesso che stanno facendo all'Università di Padova che è arrivata a dire una cosa che io immagino da anni però abbiamo sempre bisogno di dati e hanno preso la facoltà di psicologia e il mio documentario hanno tolto il testo quindi un insieme di trash, no? Il mio documentario senza testo è un trash televisivo e l'hanno somministrato a un gruppo di ragazze l'hanno fatto vedere. Poi hanno preso un gruppo di ragazze formando il campione in modo simile al primo gruppo e hanno mostrato un documentario sugli animali. Ad entrambi questi gruppi hanno poi somministrato un compito di algebra. Il primo gruppo quello che aveva visto il trash televisivo ha dato risultati decisamente peggiori. Cosa abbiamo capito? Che questo tipo di environment ci fragilizza. Ma c'era bisogno dei dati. Avevamo bisogno sempre di dati ma lo sappiamo io e lei benissimo. Se noi siamo a un colloquio di lavoro come mi è capitato cento volte nella vita e c'è qui un manifesto di una gambe per aria e qui c'è il panorama con un'altra culo per aria e intanto c'è il calendario Pirelli uno non ha nulla contro di questo ma è obiettivamente ci fragilizza perché noi saremo lì per dire qualcosa di noi e invece rientriamo in quell'immaginario. Diciamo che all'estero è molto meno così. C'è una cosa che qui noto molto è che è lo sguardo che è difficile da raccontare ma ero il mese scorso a Utrecht in Olanda parlavo con un uomo della mia età e parlavo di questi temi e il suo sguardo era così come mi guarda adesso lei di interesse interesse normale e qui si potrebbe raccontare la differenza di un paese perché quando qui parlo con un uomo coetaneo di questi temi che sia di destra che sia di sinistra diciamolo lo sguardo dopo due minuti è non si sa cosa farne con questo tema la questione è maschile non è femminile in Italia la questione è maschile ma senza nulla devi dire contro gli uomini che amo i coautori del documentario sono due ragazzi sono due giovani uomini ma è una questione maschile se non sapete cosa fare con questo tema mettetevi al lavoro finisco dicendo che c'è un allarme tra i giovanissimi che sono la nostra speranza che sono diversi che sono molto più europei che hanno il coraggio durante le assemblee a scuola di alzarsi e di dire quelle immagini non mi corrispondono mi piacciono queste ragazze ma io non sono quello scimmiesco che si accoppia tutto il giorno questo è quello che dicono però l'altro giorno Filippo 17 anni a scuola ha detto sa lei ha fatto questo documentario dalla parte delle donne e io adesso mi ha detto le dico come la vedo io io ho 17 anni ho la bici e non ho i soldi neanche per il motorino in tv e adesso anche in politica ci sono dei signori che hanno l'età dei miei nonni che se la fanno con quella della mia età e io che possibilità ho dov'è il mio posto la questione in Italia è maschile che gli uomini adulti si facciano carico la fragilità che vedo nelle scuole non è delle ragazze bisogna dirlo le ragazze sono confuse ma non estremamente fragilizzate ce la faranno i ragazzi sono molto fragilizzati però questo è un tema che io porto e poi porto ai maschi adulti italiani e dico fatevene carico non è un problema che possano trattare le donne adulte perché sarebbe un eccesso di maternage porterebbe a dei risultati non positivi ma che gli uomini adulti affrontino questo tema i ragazzi hanno bisogno di risposte e di luoghi di elaborazione del disagio c'è qualche detrattore non tanti e questo è un po' il nodo del problema e molti hanno reticenza perché è un problema scomodo allora però d'altronde io credo anche che il nostro lavoro è essere scomodi e quindi ci troviamo costretti a dire cose che su qui in Italia c'è un grosso tabù e uno dei tabù è per esempio che una certa parte della sinistra è stata in modo forse inconscio uno dei migliori una delle migliori alleati del berlusconismo ritenere drive-in o striscia alla notizia dei programmi liberatori per le donne o trasgressivi e emancipatori è stato un errore bisognerebbe avere coraggio di dire ci siamo sbagliati cioè ricordiamo a tutti che Antonio Ricci dichiara da sempre di essere di sinistra di essere emancipato insomma bisognava forse che la sinistra dicesse un attimo rivediamo un qualcosa la liberazione del corpo femminile lasciate a noi donne dire che cos'è almeno questo allora stare sotto un tavolo come hanno costretto la povera Flavia Vento per anni di liberatorio non ha nulla farsi dare il microfono in testa da uno dicendo le tette a casa le hai lasciate fatelo dire a noi che di liberatorio non ha nulla e neanche farsi appendere come un maiale marchiandoci sul culo di liberatorio non ha niente sono tutte immagini prese dal nostro documentario ma noi ne abbiamo altre il primo giornale che ha parlato di noi non è stato italiano ma è stato Le Monde che ha parlato di noi subito appena qualche giorno dopo che eravamo online dopodiché hanno parlato di noi un po' tutti dal New York Times al Tribune la BBC ha già fatto diversi servizi su di noi sia BBC Radio che BBC Televisione la cosa interessante è che loro sono interessati anche per chi dice che questo non solo il nostro lavoro ma che chi parla male dell'Italia all'estero svilisce l'immagine del paese bisogna ricordare che l'immagine del paese è terribilmente svilita all'estero e qualsiasi forma di reazione di cui si sappia all'estero serve a non svilire l'immagine del paese quindi all'estero sono interessati a tutte quelle forme di reazioni quindi la vedono come una forma positiva e quindi la cosa interessante è che sia gli olandesi che gli australiani che gli austriaci e che gli inglesi sono venuti nelle scuole a filmarci ecco mi piacerebbe che anche qualche italiano che tra l'altro anche più comodo perché questi signori della BBC settimana prossima partono da Londra con una troupe per venire a filmare il nostro intervento al Machiavelli di Firenze magari anche per gli italiani sarebbe anche più comodo è venuta una troupe dall'Australia a filmare il nostro intervento in Liguria è venuta una troupe dall'Austria a fermare il nostro intervento a Milano insomma hanno un interesse a vedere forme di reazione per dire che il paese non è completamente morto e chiaramente non ci siamo solo noi c'è un sacco di gente in questo momento di cui si potrebbe parlare in Italia e che si sta dando fare non è che non esiste non ne raccontano i giornali tradizionali ma siamo attenti che non è che non esiste perché se no diamo ragione a quelli che dicono se non appari non esisti ormai esistono non sono visibili sui media tradizionali ma le forme di reazioni sono tante quindi diciamo dall'estero c'è un grandissimo interesse settimana scorsa abbiamo presentato il nostro progetto quindi documentario libro lavoro nelle scuole a Parlamento Europeo e c'è stata un'accoglienza che definirei insomma eccezionale noi abbiamo presentato al consiglio di amministrazione a Rai in una piccola aula del senato secondo intervento due settimane fa ho presentato in commissione di vigilanza Rai e ecco di queste cose non posso dire gran bene perché c'è stato uno scarso nonostante noi siamo come degli arieti c'è stato diciamo non un grande interesse invece ci ha fatto piacere che l'8 marzo mi ha invitato il Presidente della Repubblica al Quirinale ma l'ho trovato un gesto importante non tanto perché io in questo momento credo molto nelle istituzioni devo dire la verità ma nell'istituzione del Presidente della Repubblica in questo momento sì e ho trovato eccezionale il modo in cui sono stata contattata che attraverso il blog che mi è piaciuto moltissimo dopo l'invito è giunto anche formale ma contemporaneamente mi era arrivato una forma di interesse al nostro lavoro da parte del Presidente della Repubblica in quel momento arrivava anche una mail di Chiara 16 anni di un paesino e sono arrivate insieme questo è molto importante dice che lassù qualcuno guarda quello che accade anche sui blog e questo lo raccontano nelle scuole vuol dire che il Presidente è circondato da consigliere e consiglieri che non si limitano a sfogliare il Corriere della Sera o la stampa insomma interesse politico poco forse fortunatamente politico no partitico il nostro è un lavoro politico interesse dei partiti poco qualcosa del PD qualcosa da parte di Michi Vendola riconosco che il lavoro al Parlamento Europeo è stato agevolato dall'interesse di una senatrice del PD che è Silvia Costa che è parlamentare europea scusate parlamentare europea poco forse meglio perché così noi siamo molto liberi no è il nostro lavoro trasversale noi andiamo dove ci chiamano oggi pomeriggio siamo in una piccola sede del PD che ci ha chiamato di Milano siamo nelle scuole siamo nelle associazioni siamo spesso nelle parrocchie se ci chiamano andiamo cioè andiamo dove serve non abbiamo appartenenze certo che un aiuto magari sarebbe stato gradito perché noi non abbiamo nessun tipo di finanziamento e questo bisogna dire che è un vero disastro perché si fa molta fatica ed è anche qui molto poco lungimirante anche solo da un punto di vista di interesse biecamente personale essersi reso conto che dietro di noi ormai c'è un movimento d'opinione importante che andiamo nelle scuole per esempio un'istituzione che agevolasse il nostro lavoro delle scuole avrebbe anche un ritorno di immagine importante appena uscito il documentario siamo stati sommersi da richieste di docenti professori che ci dicevano dateci degli strumenti di media education di educazione in immagine quindi abbiamo iniziato abbiamo prontato un corso che si chiama Nuovi occhi per la tv ed è un corso su offrire ai ragazzi degli strumenti per uno corretto uso delle immagini ci insegnano a leggere non ci insegnano a guardare le immagini ma sappiamo che siamo in ritardo perché i ragazzi passano molto più tempo sul pc davanti alla televisione che a leggere quindi questa è un'altra delle grandi debolezze del nostro sistema educativo quindi finché c'è una televisione così poi è ancora più urgente la nostra urgenza è dire finché c'è una televisione così diamo ai ragazzi degli strumenti non di demonizzazione della tv ma di corretto uso interessante che tutte le volte che ci chiamano in un artistico i ragazzi sono molto più pronti che vuol dire che loro abbiamo capito che fanno educazione all'immagine l'immagine pittorica hanno comunque uno sguardo critico verso la tv questo è molto interessante quindi è urgente agire su due fronti uno battersi perché questa televisione sia più europea insomma non lo diciamo noi lo dice il Censis che voglio dire più istituzionale di loro la tv italiana è l'unica ad avere queste immagini in Francia c'è un 20-30% ma per quantità poi di proposizione giocano su un po' su bugie quegli autori che dicono no ma io in Germania ho visto certo via cavo pay per view in Germania vedi anche il porno ma mi sembra diverso mandare in onda alla RAI alle 7 di sera Raffaella Fico che sale la scala con la telecamera ginecologica che inquadra sotto nemmeno più il sedere e uno che alle mezzanotte da solo in camera sua decide di vedersi un porno mi sembra diverso quindi chi fa cattiva fede non è disinformato è in cattiva fede quindi uno agire per avere un'altra televisione quindi a livello istituzionale non smettere di arrabbiarsi chiedere far partire una bella campagna per la riforma dell'auditel questa sarebbe una cosa interessante e l'altra è invece fare in modo e sarebbe un lavoro da ministero delle istruzioni che i ragazzi abbiano la media education come materia obbligatoria imparare a leggere le immagini che mi arrivano dalla tv e da internet ecco credo che queste siano le due azioni però ripeto non basta dire è però è mancante il ministero dell'istruzione finché non c'è facciamo noi cioè ognuno si organizzi a fare delle cose perché altrimenti il paese si ferma quindi ognuno si organizzi non compressa pochismo per carità noi adesso abbiamo messo in piedi un corso veramente di livello con docenti di grandissimo livello persone che si coinvolgono anche da un punto di vista etico e civico di cittadinanza attiva che lo si faccia in ogni c'è tanta gente che lo sta facendo parliamo di drive-in spesso perché è stato il programma che ha sdoganato per esempio quello che gli inglesi definiscono tokenism se voi rivedete token vuol dire pezzo no? parcellizzazione del corpo se voi rivedete drive-in di quegli anni loro per prima hanno sdoganato le riprese c'erano delle inquadrature dove c'erano le ballerine in fila e c'erano delle riprese solo del sedere del culo o del seno e questo è interessante perché poi viene ripreso molto quindi non mi interessa nemmeno più tu come donna bella nuda mi interessa il tuo sedere cosa me ne faccio di te quindi esattamente come vi può interessare il mio cellulare allora definire che questa molti dicono ma da lì si è usciti da un certo moralismo italico e ho capito usciteci col vostro di corpo fateci dire a noi cos'è liberazione trovo più interessante non so c'è un gruppo adesso a Barcellona di ragazze che sta sviluppando un'idea di porno al femminile mi interessa non so se sarò d'accordo ma mi interessa fatelo dire a noi erano tutti uomini che dicevano che gran liberazione ma scusate adesso non per fare le iperfemministe ma fate dire a noi vi liberate col corpo nostro liberatevi voi insomma io onestamente di riprese sul sedere che poi sono liberatorie per la società non ci vedo tanta liberazione magari ci può essere un porno al femminile che sarà liberatorio vediamo ma lo decidiamo noi prima cosa e quindi ci sono stati questi gruppi di pseudo intellettuali che in un qualche modo hanno dichiarato che questo era e quindi tutta quella televisione era molto appoggiata dagli intellettuali di sinistra non tutti che vedevano come liberatoria ecco credo che lì ci sia stato un grandissimo errore la liberazione sta onestamente da un'altra parte la prima cosa che mi viene da dire è la liberazione sta dove le donne hanno un ruolo attivo e poi si determineranno come vogliono magari in mutande però ripeto credo che l'immagine di Flavia Vento sotto al tavolo rimarrà un simbolo di questi anni dico spesso a scuola sotto al tavolo a Carponi ragazzi dove andiamo quello era un bel simbolo il tavolo di Plexiglas ma Mucari disse ha pure i buchi per respirare ecco che qualcuno mi venga a dire che è emancipatorio e tra l'altro io dico nel documentario e noi di qua dallo schermo cosa sentiamo perché il mio punto di vista nel documentario non è stato quella è Flavia Vento sotto al tavolo io sono Lorella Zanardo io sono sotto al tavolo io Lorella Zanardo quella violenza lì l'ho sentita io io sono una donna e ricordiamo il potere delle immagini non è Flavia Vento che si mette qui in questa sala sotto al tavolo è la potenza delle immagini Flavia Vento sotto il tavolo in televisione sdogana il fatto che una donna possa essere oggettivizzata entra in 10 milioni di case che è molto diverso che se è un gioco tra di noi appendere una donna come un prosciutto e marchiarla sul sedere e mandarla in onda da quel momento abbiamo reso possibile che quella cosa accada pensiamo che c'è di là ci sono bambini ragazzini pensiamo anche alle tante connessioni che ci possono essere tra un'oggettivizzazione così forte del corpo e una certa forma di violenza che c'è nella società italiana verso le donne è sgradevole dirlo quando lo dicono i dibattiti c'è un silenzio e la gente vorrebbe uscire dalla sala gli uomini si muore di botte in Italia non si muore di tumore al seno la prima causa di morte è che ci ammazzano di botte è sgradevole quando io lo dico tutti fanno e vorrebbero andarsene è sgradevole ma fatevene carico veramente lo dico in amicizia ma io ho notato questa grande differenza e credo che gli uomini giovani saranno diversi se la prima causa di morte per gli uomini fossero le botte che danno le donne io sono certa che io lei ne parleremmo e ci diremmo però io non ho mai picchiato nessun uomo però ne parleremo ma secondo te perché noi donne ammazziamo di botte in Italia invece io vedo che tutte le volte che dico questa cosa il 100% delle persone intorno a me mi dice ma io però non tocco nessuno ho capito però è interessante parlarne e quindi ci sono proprio delle io lavoro con i ragazzini perché io credo che questa generazione sarà diversa e chiaramente ho un lavoro da qui per 10-15 anni lavorare sui 15 anni vuol dire questo quindi credo che anche qui bisogna abbattere un po' questo tabù e avere il coraggio di dire non c'entra col moralismo c'entra con la democrazia una cosa sgradevole che bisogna avere il coraggio di dire interromperla con questa storia del moralismo quello che incontro in giro è che l'Italia ormai è divisa da una forbice immensa c'è una piccola percentuale di italiani che ha cultura e soldi figli di guardano poca televisione specialmente figli dei radical chic dopodiché vanno a Oxford vanno da tutte le parti e per cui il problema televisione è un problema da moralisti il 90% degli italiani guardano la televisione non vanno a Oxford non hanno i genitori che stanno attenti a selezionarli non gli fanno l'iscrizione al cinema de sé e di questi non si è più occupato nessuno chi aveva occhi per vedere ha guardato da un'altra parte quindi non è demoralismo è occuparsi di democrazia credo